Ciao Gassuoli, oggi contesto automobilistico, sono qua a Piacenza da un amico e tornando, vabbè, nell'attesa di fare stasera un piccolo video di commento alla prima delle tre giornate del destino che si concluderà, speriamo con qualcosa di piacevole ma non dico nulla mi è venuta in mente una cosa, riflettendo sulle ipotesi di mercato, anche le riflessioni che abbiamo fatto insieme a voi su quelle che potrebbero essere le prossime mosse del Milan per rinforzare la squadra cioè la convinzione da parte di tutti che probabilmente l'investimento andrà fatto in avanti e andrà fatto sulla fascia destra mi è venuta in mente una cosa, nel senso, la propensione che spesso ha il tifoso del Milan che ha avuto negli ultimi tempi, alle volte nel lanciarsi un po' troppo nei giudizi cioè, se pensate, le Ao, dovessimo basarsi sui primi due anni non era stato apprezzato eravamo convinti che, mi ci metto anch'io, non mi tiro fuori ero abbastanza convinto che fosse un giocatore incompiuto e quest'anno invece ha svoltato, ha svoltato non è ancora un top, però ha un alto passo sicuramente e al dia di tutto io ho pensato, negli ultimi anni o meglio, ci sono due Milan, come sappiamo il Milan post-pandemia, che è un altro Milan e il Milan pre, che è un altro Milan ancora quello pre, diciamo, che ha il crepuscolo del Milan come risultati, come situazione societaria conti e umore anche dei tifosi e poi c'è un altro Milan ebbene, in realtà, se voi pensate a uno dei giocatori più criticati dell'ultimo Lusto Lusto 5 anni, intendo vi viene in mente, probabilmente, Suso Suso giocava a destra Suso è, di fatto ha finito di giocare a Dato Via a gennaio, se non sbaglio, del 2020 cioè prima del nostro salto di qualità e Suso, però, vi viene a dire Numeri alla mano è stata la nostra migliore alla destra del Lusto perché Numeri alla mano padossalmente, nel Milan post-lockdown ci sentiamo più forti sulla destra cioè, non ho più visto critiche come quelle che sono state fatte a Suso Suso che, tanto, onestamente col Milan ha sempre dato il massimo e anche quando se n'è andato si è comportato da signore ma, dopo, il Milan pur avendo altri giocatori che abbiamo avuto a Castiglieco Sale Makers e adesso Messias sembrava essersi liberato con la cessione di Suso davvero di un fardello e non ho più sentito così tante critiche sulla fascia destra però, nessun altro ha fatto gli assist che erano a meno 7-8 a stagione e i gol che erano a meno 6-7 a stagione per tutte le stagioni che ha giocato eccetto l'ultima nessuno ha fatto i numeri di Suso cioè, rendiamoci conto questo serve, questo racconto per fare il punto su come alle volte nel bene e nel male prima nel male forse adesso nel bene ci si lascia troppo prendere dall'entusiasmo o dalla tristezza i tifosi del Milan ultimamente negli ultimi anni davvero hanno preso questa abitudine di salire e scendere dal carro e di lanciarsi in valutazioni o ottimistiche o pessimistiche sulla base della pancia sulla base di una forma di tifare secondo me acerba una forma di tifare e non da grande squadra così come il Milan si era devoluto ha fatto un'involuzione in termini di squadra di società di progetto negli ultimi anni e adesso si sta riprendendo bene ora io voglio che anche noi tifosi facciamo il processo di crescita il processo che ci porterà a essere grandi tifosi per una grande squadra perché se poi il Milan davvero dovrebbe proseguire questa scia scia che dovrebbe portarlo secondo me a fare un salto in avanti noi dobbiamo star dietro al Milan noi dobbiamo star dietro al Milan e quindi anche noi fare salti in avanti e ragionare di più su quelli che sono i giocatori stessi lanciarci meno in giudizio affettati pensate contonali pensate contonali anche lì l'avremmo probabilmente buttato a mare dopo la prima stagione pensate anche in realtà con Calullo appena arrivato a uno che non ha neanche giocato nel Lione nella squadra debile in Lione e vedete cosa sta facendo bisogna secondo me imparare a sedimentare i giudizi i giudizi devono essere validati da dati oggettivi e da tempo quindi nei limiti della possibilità chiaro se un giocatore sta solo un anno al Milan lo puoi giudicare per un solo anno però al di là di tutto serve più più sedimentazione questo è un segnale di secondo me maturazione del tifo quindi l'attesa di A della della giornata di oggi che è un altro discorso oggi è venuta questa riflessione e spero anche che laddove il Milan se prende qualcuno davanti alla destra piuttosto che in attacco anche lì in attacco si parla di Belotti come nome possibile e giù a criticare ragazzi gratis e andatevi a vedere perché il giudizio adesso è critico gli ultimi anni di Belotti un giocatore che eccezione fatta per quest'anno che ha avuto delle problematiche fisiche è un giocatore che va negli ultimi sette anni sei anni andato in doppia cifra doppia cifra campionato italiano e lui verrebbe gratis ed è un milanista e deve fare 28 anni se non sbaglio perché è no forse deve fare adesso è una 28 non so se è 94 o è 93 forse è 94 deve fare 28 anni quindi un 93 vabbè poco cambia comunque un giocatore nella più della maturità gratis che va sempre in doppia cifra nazionale italiano campione d'Europa quindi anche lì voi trovate con un altro giocatore di quel livello che verrebbe al milan a quel prezzo cioè zero e con quella media goal degli ultimi anni dopodiché allora potete lanciarvi nel giudizio dei che Belotti non vale la pena certo io vorrei holland si vorrei holland ma è fattibile no anche lì criterio oggettivo secondo voi oggettivamente il milan può fare spese se vuole mantenere il progetto che ha che è un progetto di sostenibilità può fare spese fuori mercato no può permettersi probabilmente un ronato Sanchez che guadagna 5 milioni e mezzo che ha già va per i 25 anni che probabilmente ha un cartellino intorno ai 30 40 milioni secondo me no può invece magari puntare a finalizzare gli investimenti verso di anno in anno verso una o due aree della squadra cercando di trovare un buon compromesso tra prezzo e potenziale di investimento sì quindi io questo è un buon video per fatti in memoria del povero Suso che in realtà è stato è stato tanto massacrato certamente io non dico che fosse un giocatore da salto di qualità però forse paradossalmente per quello che ha dato è stato il migliore dell'ultimo lustro e ricordiamo che ha stato il migliore dell'ultimo lustro giocando in un periodo in cui il Milan era davvero preoccupante davvero il livello del Milan era basso chissà cosa avrebbe potuto fare magari ritrovandosi a giocare nel Milan di adesso nel Milan post lockdown con un altro Milan magari sarebbe stato lo stesso Suso magari avrebbe avuto un salto di in avanti come aveva fatto Cianoglu come aveva fatto lo stesso che sì magari no non lo so però alla fine rivalutiamo anche diamo onore a Suso che ripeto è uno che se n'è andato si è beccato tanta M addosso dai tifosi ingiustamente perché lui sebbene a volte lo ammetto fosse un po' frustante vederlo facesse nervosia presso il tipico movimento che faceva però lui ha sempre dato il massimo per il Milan limiti erano quelli che erano chiaramente ma ha sempre dato il massimo per il Milan e quindi niente questa è la mia riflessione andiamoci sempre con i piedi di piombo nei giudizi ci vediamo stasera grazie a tutti